Ben trovati a tutti. In questo video presenterò la novità della piattaforma didattica italiana SoClo. Per coloro che non conoscono SoClo, invito a vedere l'app dedicata, sebbene già questo video posso introdurre l'LMS e invitarvi a provarlo. SoClo e Muff Media hanno recentemente lanciato un progetto che permette attraverso lo streaming legale di organizzare le proiezioni di film direttamente in classe. Dopo aver scelto il film da un catalogo in continuo aggiornamento e che conta vari distributori tra cui l'Istituto Luce, e aver pagato naturalmente il biglietto digitale, il film è subito disponibile per la trasmissione in streaming sulla LIM o sul PC. Oltre all'originalità della proposta, conviene sottolineare la presenza di materiale didattico tipica di SoClo, schede, questionari e tracce di riflessione curate da docenti esperti. Infine, ma non meno importante, la possibilità di inserire il film in un progetto SoClo, acquisendole dunque le funzionalità e potendolo didattizzare all'occorrenza. Dopo aver proceduto al login con le nostre credenziali all'interno della piattaforma didattica SoClo, abbiamo la possibilità di accedere al catalogo delle offerte Scuola CinemaF, selezionando questa icona. Avremo accesso quindi al catalogo, ovvero sia a tutti i film che sono disponibili per l'acquisto. Ogni film è preceduto da una breve sinossia dalla locandina e da due icone, oppure soltanto una a seconda della disponibilità. Compare in tutte l'icone per l'acquisto del film, oppure una serie di materiali didattici curati da alcuni docenti esperti, che di solito riguardano tracce di riflessione, oppure una serie di proposte di approfondimento. Prima di acquistare un film, conviene creare un progetto, selezionando l'icona più, dando un titolo, descrivendolo e aggiungendo dei tagli. Una volta creato, possiamo procedere acquistando, selezionando questa icona, il film che ci interessa, naturalmente che andremo a didattizzare. A questo punto ci verrà proposto l'acquisto di un minimo di 15 biglietti, per un prezzo a biglietto che oscilla tra 1 e 3 euro. Per poter pagare, procederemo direttamente con il nostro account Paypal, o con altre modalità, e genereremo un codice o un coupon. Una volta generato il coupon, ossia dopo aver pagato, entreremo nel nostro progetto e andremo ad incollare il coupon che abbiamo scelto. In questo caso, il film si chiama La Nostra Quarantena. Una volta aggiunto il film al progetto, sarà disponibile per la visione in classe. Naturalmente, trattandosi di un progetto, potremo andare ad aggiungere materiale didattico creato da noi, come ad esempio un test relativo al film, dei compiti specifici, una discussione e una bacheca di lavoro, esattamente come per tutti i progetti realizzati su SoClo. Per ora, i film sono fruibili solo dal PC, del docente oppure dalla LIM, mentre in futuro sarà disponibile l'opzione per far vedere anche a casa, direttamente dall'account dell'alunno, il film scelto. Si tratta dunque di una proposta decisamente originale e innovativa, che vi invito a provare per rendere le lezioni stimolanti e trasformare la visione di un film in una vera e propria esperienza didattica. Buon lavoro e a presto!